Nuove nomine, nuovi incarichi per i sacerdoti della Diocesi di Andria, resi noti dal Vescovo Monsignor Manzi in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo. Allora, vediamo insieme le novità. Nuove nomine, nuovi incarichi per i sacerdoti della Diocesi di Andria, le ha resi noti a conclusione della solenne celebrazione eucaristica nel giorno dei Santi Pietro e Paolo, Monsignor Luigi Manzi, che ha precisato che gli avvicendamenti dovranno venire al termine dell'estate, cioè nei mesi di settembre e ottobre, e nella logica evangelica dell'essere servi e pastori. Servono dunque per dare nuovo slancio alla pastorale diocesana che si metterà in moto per il prossimo anno pastorale 2018-2019. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le novità. Don Michelangelo Tondolo lascia la parrocchia Beata Vergine Immacolata di Minervino per arrivare alla parrocchia di San Riccardo di Andria. Don Franco Leo lascia l'ufficio di rettore del seminario Vescovile e viene nominato parroco della parrocchia Beata Vergine Immacolata di Minervino. Don Sabino Mennuni viene nominato invece rettore del seminario diocesano e confermato vice direttore dell'ufficio diocesano di pastorale vocazionale. L'accolito Michele Leonetti viene nominato collaboratore del seminario diocesano. Don Pasquale Gallucci lascia la direzione dell'ufficio diocesano di pastorale giovanile, gli subentra Don Vito Zinfollino. Anche Don Francesco di Corato lascia l'ufficio di vice direttore della pastorale giovanile a cui subentra Don Alessandro Chieppa. Don Giuseppe Zingaro invece lascia la cura pastorale della parrocchia di San Riccardo per assumere l'incarico di vice cappellano dell'ospedale civile di Andria, affiancando così l'opera di Don Sabino Lambo. Viene inoltre nominato responsabile diocesano per la formazione permanente dei ministri straordinari della comunione eucaristica e dei ministri istituiti, lettori e accoliti. Questo ufficio sarà svolto d'intesa con il direttore dell'ufficio liturgico. Don Nicola Fortunato lascia l'ufficio di parroco rettore del Santuario Madonna del Sabato e diventa cappellano delle suore apostole del Sacro Cuore di Gesù e assistente spirituale degli ospiti delle opere pie riuniti, bilanzuoli, corsi, falconi, ciani di Minervino. Don Riccardo Agresti lascia la parrocchia di Santa Maria Adolorata alle Croci e diventa parroco della parrocchia di San Luigi a Castel del Monte, nel cui territorio ricade la masseria di San Vittore, dove nei prossimi mesi partirà il progetto senza sbarre. Don Peppino Lapenna lascia la parrocchia di San Luigi a Castel del Monte e viene nominato collaboratore della parrocchia Gesù Crocifisso di Andrie e conserva l'ufficio di direttore del forum di formazione all'impegno sociale e politico. Don Francesco Santomauro sarà invece il parroco della parrocchia Santa Maria Adolorata alle Croci. Don Leonardo Pinnelli, vicario parrocchiale della parrocchia della Madonna di Pompei, lasciando così la parrocchia Santissima Annunziata. Don Peppino Balice lascia la parrocchia Beata Vergine del Carmelo a Canosa e viene nominato parroco rettore del santuario Madonna del Sabato di Minervino, con l'impegno di farne un centro diocesano di spiritualità. Don Carmine Catalano è stato nominato amministratore parrocchiale della parrocchia Beata Vergine del Carmelo di Canosa. Don Michele Pace diventa direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale sociale del lavoro e collaboratore del parroco della parrocchia Gesù Liberatore di Canosa. Infine Don Vincenzo del Mastro diventa vicario parrocchiale della Santissima Trinità di Andrie e consulente degli uffici di Curia per le questioni giuridiche. E Don Antonio Tucci, collaboratore del parroco della Maria Santissima dell'Alto Mare, conservando l'ufficio di Cappellano della Casa di Riposo San Giuseppe di Andria.